Ciao ragazzi, ciao a tutti voi, oggi abbiamo terminato di fare pittura e musica alle nozze di Manuela e Stefano Vuoi farti venire a tartaruga? Fa' addominali tu? Guarda come fate fatto per giocare No, 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 non lo fa Va bene ragazzi, vi salutiamo, torniamo alla base, abbiamo appena fatto intrattenimento Dopodomani ancora Puglia, poi sarà ancora Calabria, poi Campania E poi ci trovate in un ospedale per un dei ospite al di tre giorni Ciao gente social, ciao